gioca e vinci con noi Mister Davide Nicolini, lo Young porta a casa la partita partiamo da qui, insomma questo era l'aspetto più importante vista la classifica Sì, quando si arriva alla fine del campionato oppure ad un punto cruciale del campionato è totalmente importante vincere le partite questa squadra ha fatto 53 punti su 63 disponibili credo che abbia fatto un percorso incredibile, bellissimo, veramente magnifico oggi abbiamo incontrato qualche difficoltà di troppo nel primo tempo onore a Real Riccione che ha giocatori che sulla carta sono giocatori di primo livello e a qualche giocatore che ha fatto la storia magari del Rimini tipo Alfredo Cardinale che oggi se non è stato il migliore in campo poco ci manca quindi complimenti a loro per la prestazione ma complimenti anche ai miei ragazzi per aver portato a casa l'ennesima vittoria, l'ennesimo risultato positivo Una vittoria che non è stata facile portarla a casa perché comunque dicevamo un primo tempo particolare, un pochino strana, una squadra che mentalmente sembrava essere un po' distante dalla partita Guarda, abbiamo giocato penso il primo tempo più brutto di tutta la mia gestione siamo passati in vantaggio e poi non siamo riusciti mai a giocare palla arrivavamo tardi anche sulle scalate difensive quindi non riuscivamo a opporre una pressione giusta poi dopo diciamo ci siamo messi un pochettino a posto a fine primo tempo ma diciamo sono stati molto bravi i ragazzi Alla prossima